Allora quindi per tutti i nostri amici che ormai sono super fan di questa rubrica formazione e lavoro con il dottor Antonio Venece, CEO and Founder di Geeks Academy l'accademia di alta formazione digitale a livello quindi professionale ragazzi ricordiamoci questo dettaglio. Ebbene oggi volevo parlare un po' con il dottor Venece di Avatar che non è il film, attenzione, perché è un contesto molto importante che è cresciuto sempre di più negli anni, non soltanto nell'ambito del tempo libero quindi possiamo pensare magari banalmente ai videogiochi o alle interazioni virtuali ma soprattutto nel contesto lavorativo perché c'è stato lo sviluppo dello smart working in questo periodo e quindi c'è una maggiore adozione di tecnologie virtuali e digitali a questo punto dottor Venece le chiedo innanzitutto di definire che cos'è un avatar e perché è importante, è così importante per la digital economy Allora, un avatar è una rappresentazione grafica di una persona o di un personaggio in un ambiente virtuale, come un gioco, un social network, una classe o una piattaforma digitale L'avatar è fondamentale, come anticipavi, nella digital economy perché noi passiamo molto tempo ad interagire con tecnologie digitali e nel mondo digitale quindi l'avatar ci permette di esprimere la nostra identità di comunicare le nostre emozioni e le nostre preferenze in ambito creativo Vi ricordate del metaverso? Insomma ne abbiamo parlato tanto nelle puntate precedenti Il metaverso è un altro che un mondo dove stringere amicizie, giocare, assistere ad eventi Ma come lo faremo? Lo faremo nei panni di un alter ego, ovvero di un avatar digitale Ah, però, aspetta, aspetta, perché qui mi viene, mi sorge un po' spontanea la domanda Quali sono, quali potrebbero essere poi le competenze necessarie, quindi quelle competenze chiave necessarie per diventare un avatar creator di successo? Assolutamente, questa è una professione che sta emergendo negli ultimi anni e va di pari passo chiaramente con lo sviluppo delle tecnologie immersive in primis legate al metaverso ma già prima dell'emergere del metaverso con lo sviluppo dei videogiochi Allora, sono essenzialmente due le aree di competenza che bisogna, come dire, avere per poter essere degli avatar creator di successo Allora, la prima è propriamente tecnologica, ossia competenze in ambito tecnologico legato a tecnologie 3D, tre dimensioni e strumenti di modellazione La seconda, area che bisogna assolutamente, come dire, avere in termini di competenze sono competenze di tipo artistico, creativo quindi per la progettazione, quindi di aspetti visivi accattivanti perché ricordiamolo, poi è la nostra immagine che ci rappresenterà nel mondo digitale quindi è fondamentale che chi farà l'avatar creator sappia raccogliere i desiderata quindi del cliente che sappia nell'avatar che andrà a creare, rispecchiare e rispondere a quelle che sono le esigenze del cliente Perfetto, passiamo ora invece a quelle che sono le opportunità di carriera e anche perché no, di guadagno, quindi dal punto di vista economico visto che oggi questo è il punto cruciale quindi quali sono appunto le opportunità di carriera e di guadagno per gli avatar creator e soprattutto nell'ambito del metaverso, specifichiamolo Allora, in realtà, parliamo sì di metaverso ci sono essenzialmente due ambiti allora, il creatore di avatar può o essere un freelancer quindi un libero professionista che sulla base delle richieste di un cliente o di un'azienda realizza uno o più avatar il secondo ambito è lavorare come un dipendente presso una grande azienda pensiamo alle grandi aziende che sviluppano videogiochi e in questo caso si troverà all'interno di team di lavoro che progettano avatar pensate che qui si arriva a dei livelli di specializzazione per cui ci sono dei profili che sviluppano le mani profili che sviluppano alcune parti del viso il naso, gli occhi, la bocca e così via perché si arriva a dei livelli di specializzazione molto importanti ma qui parliamo di lavoro presso un'azienda Perfetto Io a questo punto farei la domanda, come dire, conclusiva anche sull'evoluzione su quello che ci aspetta quindi come vede l'evoluzione professionale degli avatar creator in Europa soprattutto, quindi anche nei prossimi anni? Allora l'Europa sta seguendo il trend globale e quindi stiamo assistendo ad una crescente domanda per gli avatar creator a causa dello sviluppo del metaverso e dell'espansione delle applicazioni virtuali Diciamo che l'Europa segue con un leggero ritardo quello che è poi lo sviluppo di questo nuovo lavoro in Giappone perché il Giappone è all'avanguardia Noi sappiamo che il Giappone è nel settore della creazione degli avatar e è all'avanguardia perché ha una lunga tradizione di produzione e consumo di anime, manga e videogiochi che poi che cosa sono? Sono forme di intrattenimento basate sulla rappresentazione grafica dei personaggi Ma tornando all'Europa proprio ieri c'è stata una intervista dell'ex vice premier britannico Nick Clegg che oggi è il presidente affari globali di Meta Meta lo sappiamo che è proprietaria di Instagram, Facebook e Whatsapp e proprio ieri in questa intervista diceva ho visto le classi virtuali del futuro le classi virtuali del futuro saranno nel Metaverso e quindi chiudiamo come abbiamo aperto frequentando sempre di più mondi digitali dovremo, avremo la necessità di rappresentarci e quindi saremo in grado di poterci scegliere di farci costruire un avatar che ci rappresenti nelle modalità con cui vogliamo comunicare sia in termini di aspetto che di emozioni Perfetto, io come sempre la ringrazio dottor Veneace è un piacere approfondire queste tematiche insieme quindi grazie per essere la nostra guida da questo punto di vista volevo ricordare anche a tutti i nostri amici di seguire le repliche su radioroma.it e andare a recuperare, anche se non le aveste viste tutte le tematiche che abbiamo affrontato nella scorsa stagione, giusto dottore? Assolutamente sì, mi sono appena ricordato che il 23 di settembre noi faremo un webinar proprio dedicato a questo tema avremo con noi un professionista che è avatar creator è di ritorno da un viaggio di alcuni mesi in Giappone e quindi ci racconterà la situazione oggi che riguarda proprio questo nuovo profilo professionale degli Avador Credo, quindi il 23 di settembre ci potrete vedere sui nostri canali quindi da remoto o in presenza a Milano Ecco, esatto Stay Geek! Grazie Giulia Sempre un piacere dottore Ciao Antonio, grazie, buon lavoro